Salve a tutti i nuovi gamer, per un nuovo video su 5M, proviamo i server roleplay italiani, oggi siamo su American Empire E niente, ci tenevo a ringraziarvi per il seguito della serie, che a quanto pare sta piacendo molto Vi annuncio che proveremo a portare tutti i server che ci avete consigliato Anzi, molti abbiamo già provato oggi a portarli, ma abbiamo avuto dei problemi con la whitelist Inoltre ho visto che ci avete chiesto di creare un canale Telegram Penso che lo faremo nei prossimi giorni Ok, iniziamo, dico anche che ho scaricato un pacchettino di sirene Quindi le sirene saranno custom, non dipende dal server, ma dipende da un pacchetto che ho installato nel mio GTA Allora, direi di iniziare a muoverci Abbiamo bisogno di un mezzo di trasporto Io direi che per niente abbiamo bisogno di delle magliette guardabili Ah giusto, ho sbagliato la maglietta per quello che è verdina così strana Entra, entra No, perché mi fa entra da dietro? Fammi entra davanti, fammi entra davanti Ok Ok Quello dietro è un player, eh? Quello dietro è un player Sei sicuro? Non mi sembra Ci stavo guardando Direi che andiamo a vedere i lavori Come al solito Vediamo un po' se c'è qualcosa di diverso Per il momento è un... come dire Appare un po' vuoto il server, ma è davvero l'unico server in cui siamo riusciti ad entrare oggi Ok Andiamo... Perché è dietro? Subito Eh non lo so Boh, forse ho sbagliato ad entrare nella macchina Non ci sono i lavori qui Ok Questa è una cosa interessante Ma che hai visto? Ma che cosa sta succedendo? Mai visto No Quindi non ci sono... non sono qui i lavori Penso che siano da un'altra parte però Oddio la mappa... perché... questi punti qua vuoti che cosa sono? C'è la caccia Supponiamo che sia la caccia, non lo so, non c'è scritto niente Guarda la mappa, guarda la mappa davvero La mappa è ridicola Venditore di tartarughe Dove sta il venditore di tartarughe? Tartarughe di mare Dov'è? Però non capisco dove si prende il... Il lavoro Ah eccolo, c'entra in pieghi Dov'è? Sono pirla che non lo vedo Ma no, era a Legend Square dove siamo spawnati Ah è vero Sì, magari l'hanno messo lì per comodità Oh, what the fuck? Ho visto un... qualcosa ha buggato lì Boh, non lo so Fermi tutti, torniamo indietro Cos'era? Ma che cazzo è? Tra l'altro l'hanno messo once in kalfa Diciamo che è un po' inutile per il momento qua In questo terzo once in kalfa in 15 Vabbè, dai andiamo al centro lavoro e voglio vedere... Perché ho visto... What the fuck? Fermati, fermati Ah, porca puttana Ma che cazzo di modi sono? Ah, prende e scappa Bell'RP Ah, infatti Bellissimo RP, certo Ti ho detto fermati Perché pensavo che si fermava anche lui, infatti Roleplay Allora, dai Dove sono questi da voi? Qua Questo cerchietto è invisibile Cerchietto Allora Justamente il lavoro lo prendo al pacco Allora, avevamo trovato Bartolini e abbiamo trovato DHL Ti immagini se DHL è col camion di Bartolini? Tu un po' di... C'è DHL che postino DHL, pescatore, petrolier, neturbino, postino, falegnale, minatone, macellaio, sarto, disoccupato Sono tutti i lavori già visti Neturbino Neturbino non l'abbiamo mai fatto Vai Sì, ma che RP mai farà il neturbino? Cioè, il neturbino che RP dovrebbe fare? Non lo so Non abbiamo veramente idea Cioè Boh, tipo, passa delle attività aperte dai player per recuperare la spazzatura, tipo No, non penso Mi viene una minima idea di cosa possa fare un neturbino in... in RP come lavoro... No, perché... ma perché va dietro? Quotidiano, ecco Ok Ok, vediamo se funziona il lavoro da neturbino innanzitutto Sono proprio curioso Allora, dove hanno messo il dress up? Su, tieni qua Qui Allora, abiti da lavoro Bom Magia, magia Che cazzo sta succedendo? Non funziona più il blip Quale blip? Quella? Questo di fantamè Questo di fantamè! Ok, no, questo funziona Vediamo quest'altro Translation Already have track doesn't exist Cosa? Che hai trovato? Le televisioni fatte bene, cazzo Translation Vediamo Senti, mi devi aiutare a spostarlo fin qui Ah Already have track does not exist Ma non cammina più? Ah, ok, ok Lo posso spawnare di nuovo Decidamente no Bene, ora vediamo che rp facciamo Dato che no C'è rp da pare Con il Trashmaster C'è una rp da neturbino Immagino fantastico Ed è molto divertente Soprattutto Eh, andiamo insieme Eh, direi Però Mi sa che abbiamo i blip diversi O sono sempre gli stessi? Non lo so Tu dove vai? A sinistra No No Ho girato malissimo Che poi io dico sempre I giochi ti consegna Cioè È bello consegnare Quando c'è un gioco Dove la guida è fatta un minimo bene GTA non è adatto Secondo me a fare Questo tipo di Sì, sì Di game Oltre al fatto che comunque È un Un error play Cioè Non ruolerò niente così Il blip volante Premier per prenderlo Prendiamolo Con un civile Quello è il pirla di prima Quale? Ah Quello che c'è Ah, sì Quella macchina Oh, ma perché leggo tutti Che prendono il bus? Forse qui c'è qualcuno Ma no È un vuoto Però, boh Andiamo a vedere La gamma Aia Aia Che cazzo fai? Ci sono aspetti Che devo fare io Boh, sento delle sirene Ma Allora, dov'è? Boh, la macchina è qua dentro Mi sa che anche qui Il concisionario è gestito da Ah, premi E per seder Premi G per sederti Ok E adesso Ma che cazzo sta succedendo? Ok Cosa cazzo sto facendo? Fermo Ma che cazzo fai? È un po' baggato Il pacchino La sedia Aiuto Ehi, prova a muovere la sedia Mentre io sono seduto Cosa succede? Aspetta un attimo Guarda che cazzo Vabbè Facciamo f E dovremmo risolvere Vabbè Muovì la sedia Mentre io sono seduto Non la posso muovere Ok Non succede niente Sfrizza Vabbè Mi ha già frizzato Comunque qui non c'è nulla Da vedere Penso Per non scendere giù Vediamo Oh, smettila Dovete mandare Smettila Perché hai le mani alzate? Non ho le mani alzate Vedi, vedo quelle mani alzate No Mi sa che mi sono buggato No, no L'ho risolto Ho dovuto premere una volta x Si era tipo Boh Frizzato Allora Dove si Ok Comunque sempre così Vediamo se si può comprare Una macchina di quelle più Ma Le deve caricare Tra l'altro Ma perché Ma perché Se tu prendi una macchina Io non posso Utere la mia Me lo spieghi Si è buggato tutto Si è buggato tutto 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 Cioè Che va Che va Non utilizzare il tasto Ho cliccato Testa la macchina Ma Cioè No, no Non utilizzare il tasto Che c'è scritto Perché c'è scritto Non utilizzare il tasto Il test del veicolo È terminato Ah Testa il veicolo No, no Non lo cliccare È bugatissimo Fidati No Sono all'aeroporto Sto testando il veicolo Ok Finita la prova Vabbè Prendiamo una macchina più Più bella da provare Allora Almeno Allora Vediamo i veicoli moddati Ecco Dato che c'è i veicoli moddati Ma Cioè Prova la La MGGT Che è Bagatissimo Perché c'è il Il rimorchio della barca Cioè Io posso Posso provare il rimorchio della barca Testa il veicolo Non me lo fa provare Ma Io Sono all'aeroporto È giusto È giusto È spulato il rimorchio Come hai fatto È spulato il rimorchio Dietro di me Non solo col motivo È spulato l'altro Ho paura di aver capito Oppure Spiega Null'altro Eccolo Ci credo Se io faccio testa vicolo Su rimorchio Cosa? Se io faccio testa vicolo Su rimorchio Mi spulano i rimorchi Mi spulano un altro Dai basta Ti prego Un altro È bellissimo Comunque dai È carina questa cosa Perché Che cazzo è successo Che sa Ma se io scendo dal veicolo No Mentre lo testo Che succede? Non lo so Vabbè dai Penso che li abbiamo testati tutti ormai In teoria mi dovrebbe ritipare Ma se io entri in una macchina con te Tipo Oh fermo Ma se Non ti ho visto scusami Ma qui c'è la Bugatti di prima Ma è tua Chi è che stava provando questa Bugatti? Io Ma quindi le spona veramente? In caso lo segnaliamo o è il bug? Non è un bug così grave Cioè se me la fotto o si Perché è una cheat Ci spettiamo facciare con le Divo Non è capito allora come funziona il bug Tu poi mi aspetti? Vengo a prendere la Divo È esploso il veicolo No Ma che cazzo è successo? Che è successo? Non lo so C'è un tizio che mi sbatte sopra Ma che cazzo? No non venire Aspetta Ma che cazzo fa? Ah Ok Mi sa che c'è Un tizio Non si rubano le macchine Ma le sembra una maniera di Non può farsi giustizia da solo Un errore di calcolo Mi scusi Ah la faccia dell'errore di calcolo Non andava più Un acceleratore Ma praticamente l'ha ucciso Mi ha fatto malissimo Ma se ti rendi conto Con una macchina da genere Dovrebbe stare più attento Ok Salga Salga Aia Vabbè Mi hanno ucciso Niente Ma che cazzo fa? Boh Niente Sono Sono a terra Sono a terra Boh Mi hanno investito Senza motivo Boh Niente Mi sa che devo aspettare Due minuti e ventitré secondi Ma scherzi Ma a parte Non aspetti più di dieci minuti Perché devi ruolare Ma poi cazzo Mettetemi un tasto Mettetemi un tasto Per risponare Tanto a me non frega niente Dell'inventario Sì malato Vai in farmacia Per curare Ma che cavolo è successo qua? Mi hanno investito Ma mi sta colando Non si capisce No Penso di no Ma Se sta andando Boh Vabbè Va bene Come se Oh Gesù È sparita Sì è sparita Anche tu Oh Cosimo È sparita Eh lui Sì sì È lui È lui Non funziona Il bagno È a posto Non funziona Non funziona Ma che non funziona Ma chillate il tizio Aspetta aspetta Prima che lo bagni Fanno vedere che cosa No non vuoi però Non vuoi Non vuoi In che senso Mi sto bannando Senza motivo Ma che fai? Veramente non posso Ma che fai oh Ma che cazzo fai? Una piccola E niente Per questo video È tutto Su American Empire Siamo dovuti Siamo dovuti Spostare sul nostro server Perché Sono stato bannato Erano abbastanza fuori Di testa Comunque C'è da dire E Tra l'altro Se devo essere sincero Come recensione Nel server Direi che è il server Peggiore nel quale Siamo entrati Senza ombra di dubbio Tantissimi plugin Buttati lì Pesantissimo Perché voi non avete visto Quanto tempo Ci abbiamo messo Per scaricare tutti i pacchetti Di quel server lì Per caricarli tutti Sul computer Ci abbiamo messo una vita Veramente una vita E poi entri E sono tutti Settati male Buttati lì Cioè ragazzi Così non si fa un server Sia chiaro RP Zero Cioè non si è fatto Per niente RP E nulla dai Ripeto Per questo video è tutto E al prossimo video Ciao a tutti da Nova game